Sì, ma poi tanta cosa più grossa Non so le carte Cioè, so anche le carte della gestione Ma fondamentalmente Non so il gameplay Vabbè Vabbè, dai, ho un cuncumovio Quanto costa? Carino Penso 24 Magari quando tornano le carte da 60 Che so, quelle più scontate Potrebbe convenire qualcosa, sì No, ma Udero ti fa giocare però, Panzer Ah, prima hanno giocato a Coreina Eh, capito Rapigna Eh, rapigna, il cazzo proprio Porta a casa, rapigna, porta Cento erotti Che poi ormai tutti quelli che trovi Ne arrivano a due, trecentomila, eh Stream up, eh, noi riportiamo Quando sto bene metto proprio la piscina Dieci partite WL in tutto ciò Te dirò Vai Culibaliscia Mamma mia Che poi Dani Olmo do troppo Eppure è buono È solo che ormai C'hanno tutti Dani Olmo Cioè che stai a cercare Eh, capito che te voglio dire Ormai Andata, andata così Andata Eh, perché è al 98 Buono, buttavo dentro i doppioni Sceghera, 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 sceghera Tre E due E uno Riseca Beh, comunque carino Snyder non si muove Sta imbarsamato Ho trovato, ho provato Porello non 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 gliela fa proprio Non gliela fa Sì, arrivo Arrivo subito Fede Domani le visite Speriamo che qualcuno Possa esplodere In questo istante 20 milioni 20 milioni Ho capito 20 milioni Dal pacco della sfida Che culo Boh, gimmich Mi sembra L'unica L'unico decente Non è? Se resto Mi sembra un po' La merda Va Mudrick Pure Mamma Bella ragazzi Vi ricordo sempre Che se siete alla ricerca Di crediti Per gli AFC24 Scontati Veloci E sicuri Vi lascio il link In descrizione Con il codice sconto Yoshi Quindi mi raccomando Fatene ovviamente Buon uso In maniera intelligente Io vi do un bacione E ciao Merda E potevi Ha benissimo A quelle cifre Dovevi prendere Bella Nova A quelle cifre Per quanto mi ricordo Andava preso Bella Nova Proprio Senza Se senza Ma Dovevi prendere Lui Monnappi A 10 milioni Quello sgorbio Mamma Due boni Pure Parker Ma le mascherano Pure simpatico Non arriva più L'arabo Pare che rinnova Manco quello Riescono a più Potrò Do gullit E cru Dar 10 80 Park Tanto Penso Piammer Per doppione Immagino No Ma di chi è Ma di va Ma quello Secondo me Non è Ma Ti fa titolare A Roma Cioè Roba dei marketing Ma fa titolare A Roma Quello Quello Che Ma è Più forte Di quelli Che c'hai Oh Una battle Te dirò Non male Una battle Simpatica Abdi Abdi Prenderei 97 Bella carta Abdi Si muove bene Pare che c'è l'R1 In game Come si muove Simpatica Oddio Non è male Anche perché L'altri Ma chi va via Che poi abdi Che sta overall All'overall Mezza Stamate Adesso Abdi Sto picche Pazzo Comunque Pure al 20 D'agosto Ma te posso Diva Meglio Non piallo Che piar cojone Però Quello è il discorso Perché tanto Ritorna che Te fa due partite De merda E fa un anno Un tribuna E ritornarmi Committente Ma come ne Mar 99 Oh Ah 8 7 8 Mio Nite carta Che abbiamo trovato Madonna Ma che me frega Ma dammo pure Il 20 D'agosto Sai come Codo Mi manda Mi manda Veramente Matti No Vedi Sti picchettini Che ci raccontano Beh Gakpo Ma che 5 5 4 5 5 5 Sto Gakpo Ma si Playstone Ma è un fenomeno Che sto Gakpo No Se non Ti preoccupa Non serve Mi devo finire Sto 8 2 MWL 50 K Costa Sto Gakpo Ah Ma è clamoroso Totib O Felix Forse Felix Prenderei Eh Non lo so Sam Mi sa che Mi sa tanto Che non sarà così No no Pure per picco Tu fai io Più Joao eh Oh per ora 2 su 2 Discreti Rifatta Attacco Pure Joao Felix Ancosta Un cazzo L'altro Totib O Kbara Tanto Marchinhos Chi vuoi Eh boh Mi ho detto Se vado Di Bokwara Però Che ne so Io non ho detto Niente Via Ammazza Che cagata Dei pic Veniamo pure Da pic Discreti Ma questo E' proprio Ma chi Di per Far Dici Eh Da di roba Brutto Come dici Un 92 Dripling Ammazza Questo Perché Non l'ho mai provato Guarda Che cartona Arti Tupic Senti Che buoni Senti Che sapore Direi Direi Una Battle Iemanca Bella Carta Ovvero Il più alto De tutti Ci sta E Mesa Snyder McTominay Pure Era bello Veramente bella cartina McTominay Mi piace Wesley Snider Vabbè però 97-98-98 Eh, quelli che farei io fra Ma no, ne basterebbero giusto un paio in realtà Posso dire Onesto pizza Perché riesco a giocare a Weekend League Che gioca a quel DLC The Warhawk Ah Beh era ora Via va Eh, hanno troppato comunque Ah Ah Sì Abbiamo trovati tutti Abbiamo trovati Ronaldo Neymar 15 milioni Madonna Manto moso è spostato Manto penso fino ai 10 Sono live e faccio un'oretta e mezza Su cake 400 mila sto Ma fatte levo queste qua De quelli 97 Se no so Grades su qua Fascia di prezzo È bello da provare Direi Alaba Che disci Direi Debit Alaba Bello 3 Ar 20 De agosto Ma che me danno Ma Ronaldo Eh Mi va appeso Rimete qualcuno Allora Un bel to Vabbè sti cazzi P-88 Tanto tutti uguali Poi Mugnoz 94 Mamma mia Bollente 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 Campbell 91 Buono E mo vedemi Tu picche Per cui ammo giocate Smadonnato Oh Pedri L'amico tuo Peccato che già ce l'ho Sia Pedri Che Kimmich Io mi sento Amico tuo Tra l'altro Ah Eppiamo Martinelli Che te devo dire Ammazza che merda Posso dire Oh c'è un nuovo mafia Ragazzi E namo Mi saluto ragazzi Di youtube Buone vacanze E vediamo Ah Questo è non scambiabile Ho capito Dispeso Di pomeriggio Oh Attenzione L'ultimate Com E' un'ultima Per 20 agosto Io Questa è le zappa Tapsoba Eccolo Le zappa Ma le zappa 91 Ah Rafinha ho trovato Pure scambiabile Oh Oh 150k PS a sto punto Dell'anno E' Er jackpot Allora Rafinha 97 Quanto 160.000 Mamma mia Che Tu ben di dio Ti è 155 Litman N Via Ah Courtois Tapsoba Pure Courtois Non è che è Stinto Fa qualche E' strana Si Se dici Che Aspetta E si Scarta Vabbè Buono Buono Un bel pacco Posso dire 585 Più 585 Scambiabile Attenzione 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 Zelem Se gira Ma frega Cazzo Tant'è Nicona De merda Sotto Bobby Charton 94 Che sta 11.000 Crediti Tutos Motric E Go Vabbè Devo Deve Andrà Peggio Non so Simpatici Sti Premi 387 Dai Con Futis Dentro Tutto Pazzo Oh 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 La casica 96 Gira Futis Però Adama Travrei 30.000 Crediti Eh Culo Prima proprietaria Eh Mamma Via Casi Gli assi Goss Ma Quante Harte Mi ha Dato E Mo Se Avrimo Il 3.95 Con Pe 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 Listri Garantito In Arti Tu Scemi Eccolo Uruguay Ad Ma Scusa In Copertina Ah No Però Vor Dì Che Non C'è Vabbè Il Lugumino Perfetto Meno Ah Eh Sì Hai il sesto Che trovo Calcio Calcio Ne Palle Calcio Vabbè I metti tutti insieme Eh Sì Famo La torre Vabbè Le famo Lugumino Scorri Di B .